Dopo la strage di Capaci e prima di quella di Via D'Amelio incontrai mio padre Vito Ciancimino che mi disse sono stato contattato da personaggi altolocati per trattare con l'altra sponda per porre fine a questa mattanza. A parlare non è Massimo Ciancimino ma il fratello Giovanni chiamato a deporre dalla corte d'assise di Palermo dopo che in primo grado si era avvalso della facoltà di non rispondere perché all'epoca proprio suo fratello Massimo era imputato nel processo oltre che per la calunnia nei confronti di Gianni De Gennaro per associazione mafiosa. Ciancimino ha riferito delle interlocuzioni avute con il padre nel 1992. La prima occasione fu quando andò a trovare a Roma il padre dopo la morte del giudice Falcone. Quel giorno era insolitamente gentile e già questa cosa mi preoccupò. Non ero abituato a queste forme. Io ero molto turbato. Falcone era stato appena ucciso e io non lo conoscevo. Ad un certo punto mio padre mi disse questa mattanza deve finire. Sono stato contattato da personaggi altolocati per trattare con l'altra sponda per porre fine a questa mattanza facendomi capire che ne avrebbe tratto dei benefici. Io rimasi interdetto. Ci fu una litigata tremenda. A Rotello gli anni prima mi diceva che lui non c'entrava nulla con quella trasponda con la mafia. Cioè io sono il capo espiatorio, la vittima a sacrificare. Diceva Don Vito all'agnello. Io capì subito che questa cosa sarebbe stata foriera di guai inimmaginabili. Lui se l'ha presa con me dicendo che volevo che si faceva dieci anni di galera e io risposi che non ero io il suo interrogatore e me ne andai. Il test non ha mai saputo chi fossero quei soggetti altolocati ma così come aveva fatto il processo Mori Obino ha detto di non ritenere che questi potessero essere gli ufficiali dei carabinieri. Mio padre riceveva ministri, presidenti di regione, ogni tipo di persona. Non credo che poteva riferirsi ad un colonnello o a un capitano dei carabinieri con tutto rispetto per il loro ruolo. Era una cosa scellerata quella che mi disse mio padre a proposito di personaggi altolocati. La considerai tale e non ne parlai mai con nessuno anche perché dopo le stragi di Capace e via da meglio. Eppure dell'incontro con il capitano De Donno ad un colonnello gli parlò il fratello Massimo Ciancimino rispondendo alle domande del presidente della Corte d'Appello Angelo Pellino Ciancimino avvocato ha poi riferito del secondo incontro con il padre avvenuto però dopo l'omicidio di Paolo Borsellino a Palermo. Stavamo andando verso il Monte Pellegrino ha ricordato mio padre esordì con una frase odiosissima tu che sei avvocato dall'alto della sua supponenza mi chiese cosa fosse la revisione del processo ricorda Giovanni Ciancimino glielo spiegai e poi lui se ne uscì con quella frase da brividi allora è possibile anche la revisione del maxiprocesso io mi sentì preso dai turchi si parlava del nulla giuridico mi chiese anche alcuni dettagli della legge Rognoni-Latorre la legge che introdusse per la prima volta il reato di associazione mafiosa del 416 bis e in quella occasione che a detta del test Don Vito avrebbe tirato fuori dalla tasca un foglietto arrotolato non me lo mostrò ma lo lesse lì erano annotate le richieste della trattativa le richieste dell'altra sponda per lui l'altra sponda era la mafia la chiamava così per fare una differenziazione con lui sapeva benissimo a cosa si riferiva e la interpretavo come una sua presa di distanza e quei due argomenti la revisione del maxiprocesso e la legge Rognoni-Latorre erano gli elementi della trattativa più volte durante l'esame Giovanni Ciancimino ha fatto riferimento alle difficoltà di dialogo con il padre che non era mai stato affettuoso e che riteneva sempre di avere ragione il figlio di Don Vito ha anche ricordato che il padre scriveva molto e faceva fotocopie dati che confermano anche i racconti di Massimo Ciancimino i rapporti si ruppero dopo un terzo incontro quando chiese al figlio di fargli ottenere un passaporto era una cosa assurda mi disse di chiedere all'avvocato Campo di fare la richiesta mi disse questa cosa bislacca mi hanno fatto capire di chiedere il passaporto ma fatto capire chi questa cosa mi lasciò anche stranito perché lui non era un uomo che scappava poi seppi che lui presentò ugualmente l'istanza gli dissi che era una pazzia una persona condannata il dato di fatto fu che fu arrestato e portato a Re Bibbia per scontare la condanna a dieci anni contavo solo i giorni quando sarebbe accaduto prima del figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo a salire sul pretorio è stato l'ex funzionario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Andrea Calambria oggi presidente titolare della Corte d'Assise d'Appello di Roma grazie a tutti grazie a tutti